buongiorno a tutti ragazzi e oggi ci fermiamo qui per fare una maglietta con il logo la prima maglietta con il logo di mizzo channel e ne farò due così almeno farò un cambio questo ma c'è solo sta maglietta quella che usi sempre e ci avete ragione pure voi quindi ci stiamo operando per farne una nuova guala vediamo bian pianino come si fa qualche minutina avremo il nostro logo e faremo questo change il costo 300 baht che sono al cambio di oggi 9 euro il tempo 6-7 minuti operatrice che lavora sul software in maniera eccellente stampante a 3 press il tutto con un bellissimo chioschietto posto sulla nanai road davvero davvero carino è cresciuto subito per dire la verità il mio scooter che mi accompagna dappertutto e dopo andremo anche a cercare di prendere una cam da poter applicare sopra lo scooter così almeno anche questa grande richiesta giustamente guarda sta lavorando la prima stampa non è venuta bene no di no di no di no di riproviamo un'altra stampa a più tardi ricarichiamo i colori sono finiti non mi piace non mi piace ecché ha facile ecco grazie ok giudice ecc il oggi è stato molto oggi è stato molto no possiamo provare Ecco come si realizza la maglietta, ho cambiato shop, lo shop precedente non mi piaceva perché i colori non mi soddisfacevano, osservate la tecnica, i gradi sono sempre gli stessi, 180. E vediamo poi il risultato. Quanti minuti funziona una minucia, ok? Leo Leo. Leo 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 S Condit cover my friend, Italy. Scondit cover America, ship it in category divirtare la felida fuori. è pronta la magliettina bella mi piace adesso stamperemo anche la parte posteriore stiamo preparando la parte anteriore ha preso tutte le misurine va in print schiavellino press e aspettiamo abbiamo i followers hello hello attendiamo 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 Perciò cercare di scrivere Ti dico qualcosa per scrivere Sì No, no, ho chiesto di chiesto Ci siamo quasi Risultato finale Yeah Pronto Buono Buono Perfetto Lei fa pubblicità intanto Che non guarda con la mia maglietta Buono Ecco la preparazione dell'altra maglietta Sempre i follower Molto curiosi Le ho detto di iscriversi al canale Le misure chirurgiche L'operazione sta per iniziare Sposte dal sgabellino Sposte dal sgabellino Guardate, notate 3,2,1 Buono 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 Letto Lo Grazie a tutti. Grazie a tutti. A Puket, al centro del Jan Silong. Voilà. E da questo momento in poi andrò in giro. Dovunque, ovunque. Mi porterà la voglia di viaggiare, la voglia di scrivere, raccontarvi, raccontarmi. Con la mia maglia ufficiale. Ragazzi, a più tardi. Intanto io vi faccio una passeggiatina e vi racconterò cose interessanti. Spero. Ciao.